Lo spazio delle prime grandi civiltà. I territori delle prime grandi civiltà, egizi, sumeri, babilonesi, fenici, ebrei, persiani, cretesi, con essi lo sviluppo e la nascita dell'agricoltura, della metallurgia, l'urbanizzazione, la formazione dello Stato, la scrittura, ci fu una vera e propria interazione tra uomo e ambiente. Organizzarono queste popolazioni il proprio territorio in modo differente. Lo spazio geofisico di queste civiltà è diviso in Mediterraneo orientale e il vicino oriente antico. Il vicino oriente antico, come possiamo vedere, è quella zona compresa tra Mar Nero, Mar Caspio, Caucaso, coste del Mediterraneo, Egitto e penisola arabica e altopiano iranico. L'area della mezzaluna fertile, in cui nacque l'agricoltura tra il 10.000 e l'8.000 a.C. Nascerà lì l'impero persiano nel 600 a.C. L'area mesopotamica, che è l'area compresa fra tigri e eufrate, e bacino in cui confluiscono e poi sfociano nel golfo persico questi due fiumi. In antichità sfociavano nel golfo persico separatamente e crearono una fitta rete di canali le varie popolazioni e portò ad un forte sviluppo agricolo della zona. Qui si svilupparono i sumeri e possiamo vedere l'agricoltura si sviluppò anche a nord, Monti Zagros, l'allevamento. Poi c'è l'area egizia, che è l'area del Nilo, che nasce in Africa e sfocia a nord nel Mediterraneo per 6.700 km percorsi. Negli ultimi 2.000 km ci fu una terra coltivata, la valle del Nilo, detta terra nera. Il Nilo infatti depositava il limo di colore nero che rendeva la terra fertile. Furono costruiti canali di irrigazione in questo modo e la valle del Nilo fu una valle chiusa, circondata dal deserto, di difficile accesso, accessibile da nord o da sud. Mantenne per 3.000 anni conservata la civiltà egizia. La Mesopotamia fu una zona invece aperta, sottoposta a diverse dominazioni. Poi c'è l'area siro-palestinese che si affaccia sul Mediterraneo orientale. C'è la presenza del mare e c'è il Giordano, che è il fiume che scorre nella regione. A sud si sviluppa l'agricoltura, la pastorizia. A nord ci sono catene montuose, alberi per il legname, per costruire le navi come ad esempio i Fenici per lo sviluppo poi delle vie commerciali, che diventa un punto di contatto di ponte tra la Mesopotamia e l'Egitto e la penisola arabica. Poi c'è il Mediterraneo orientale, che è quella zona compresa fra la Grecia del nord a nord, l'Egitto a sud, a est la costa siro-palestinese e qui ci furono scambi con l'Antico Oriente e l'area Egea. L'area dove è presente il mar Egeo con piccole isole di navigazione breve, come ad esempio Cipro e Creta. Poi c'è la penisola anatolica, che è un paesaggio montuoso con aree per l'agricoltura, che è un punto di collegamento tra l'Europa e l'Asia.